Confermare la comunione con il Papa e con la Chiesa che preside nella Carità è questo l'obiettivo dei Vescovi di Sicilia che in questi giorni sono a Roma per la visita a Tullimina Apostolorum iniziata ieri mattina con l'incontro con il Santo Padre presso il Palazzo Apostolico. Nei prossimi giorni invece i Vescovi si incontreranno presso i di Castelli della Curia Romana dove presenteranno il Cammino delle Chiese di Sicilia dopo aver inviato alla Santa Sede una relazione dettagliata sulla propria diocesi e una generale dell'intera regione ecclesiastica. A Roma è presente anche il Vescovo di Trapani Monsignor Pietro Maria Frannelli oltre all'Arcivescovo di Agrigento il Trapanese Monsignor Alessandro Damiano e il Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana Monsignor Antonino Raspanti. Siamo stati dal Santo Padre con i Vescovi della Sicilia per la visita a Tullimina Usuale, è stato un lungo incontro molto molto cordiale, assolutamente familiare, ci ha messo subito al nostro agio. L'impressione che abbiamo contratto tutti uscendo è stato di un vero fraterno incontro con colui che in qualche modo ci guida e è assegnato dalla Providenza a guidare la Chiesa Universale e dunque ad essere confermati nelle varie problematiche che affliggono la vita pastorale o che richiedono attenzioni nella nostra isola. Abbiamo parlato di migranti per ovvie ragioni, abbiamo parlato di legalità e di mafia, abbiamo parlato di giovani, di difficoltà di trasmettere ai giovani i contenuti della fede, la vita di fede, la vita ecclesiale. Abbiamo parlato di problemi di spopolamento perché la nostra isola soffre molto tra denatalità e emigrazioni, dalla nostra isola si va via purtroppo. Abbiamo parlato del grande contatto con la gente, le visite pastorali, il cammino sinodale. Insomma, ognuno di noi ha potuto sottolineare ora uno, ora l'altro aspetto della cura pastorale e delle bellezze o criticità delle comunità ecclesiali della nostra isola. E poi ovviamente, visto l'orario, abbiamo pregato insieme alla Vergine Maria.